L'accordo sembra un passo, dice qualcuno. Dopo il passo indietro di D'Alessandro, la distribuzione delle deleghe, l'ingresso in giunta di Abruzzo Civico con Gerosolimo, sembra che tutto vada per il meglio e si possa considerare rientrata la crisi di governo per D'Alfonso. Ma non tutti sono proprio convinti o meglio, tutti tranne Sel, sì, perché se il posto di sottosegretario non soddisfa Mazzocca, se le deleghe all'ambiente sono una condizio sine qua non, si è arrivati a sottrarre incarichi a Marinella Sclocco, unica donna in giunta, per girarla al neoentrato Andrea Gerosolimo, che oltre a quella alle aree interne, già annunciata, potrà contare su quella lavoro, formazione ed eventi. Arriva poi la voce dell'opposizione, Forza Italia, per Bocca di Gatti parla di una maggioranza che da un mese si nasconde dietro rimpalli e dichiarazioni e che oggi ancora non pensa a risolvere fondamentali questioni. Insomma, l'opinione di sconcerto è un po' anche di sconforto, perché è da oltre un mese che la regione, che prima era piuttosto lenta e confusa, adesso è completamente ferma. Il dibattito è soltanto un dibattito così di stampo giornalistico su poltrone, spostamenti, deleghe, però, insomma, sui grandi temi e sulle urgenze, l'emergenza della regione, siamo completamente fermi e bloccati. È uscito questo dato agghiacciante della disoccupazione in Abruzzo al 13,6%, quando la media nazionale è al 12%. Insomma, eppure non si vedono politiche del lavoro, non si vede una pianificazione sanitaria. Insomma, mi sembra che sia uno dei momenti più bui che io ricordi degli ultimi lustri della regione Abruzzo. Dal canto suo il Movimento 5 Stelle parla di ricatti inaccettabili, se si guarda la mancanza di coesione che non può far durare in eterno un governo come quello che si manifesta oggi alla regione Abruzzo. È assurdo perché un consigliere regionale non può ricattare una maggioranza di governo. Io non conosco gli equilibri che si erano instaurati all'inizio tra le varie forze di maggioranza, ma sicuramente non si può far mancare i numeri solo perché non si ha una poltrona. Questo è successo in regione Abruzzo. Hanno fatto mancare i numeri, non si sono votate risoluzioni, impegni, proposte di legge importanti che andavano sicuramente a impattare sulla collettività abruzzese perché, ancora una volta per la poltrona, questo è il grado più basso della politica della nostra regione. Non si può fare questo, però purtroppo loro lo fanno e quindi dobbiamo commentare ancora una volta queste storture del sistema politico.